siamo qui a tombstone a provare il nuovo spettacolo a pietra tombale in provincia di vercelli credo a provare il nuovo spettacolo ma oltre lo spettacolo in teatro siamo disponibili anche per matrimoni battesimi funerali divorzi circoncisioni feste di laurea ma che cazzo sparate che sto parlando sto registrando un video di promozione ma controepo andiamo a provare controepo che si mette ma io posso tranquillare una volta quando non ho ancora iniziato a fare lo spettacolo qui si spara grazie